A un grande maestro, un riconoscimento a un grande, un grandissimo maestro, arriva qui, prego, la prima, allora qui sopra c'è scritto, prego maestra, legga lei. Premio alla carriera a Roberto Mamei Evangelisti, il primo a raccontare curva attraverso i giocatori. Le seconda è la tua cultura, oggi tutti noi ci hanno scritto il più grazie a te per presentare il radio. Grazie a me, Roberto Mamei Evangelisti. La cosa che mi ha colpito del maestro, che poi non soltanto è il maestro Mamei Evangelisti, alcuni italiani, maestro Roberto Mamei Evangelisti, una volta tu mi hai parlato, io ti ho chiesto quando è che ti sei innamorato di questa musica e tu mi hai raccontato che hai ascoltato un disco e lui mi ha detto questa frase, che poi me l'ha detto da qualche altro perpluzionista italiano, sono rimasto folgorato. Lui in una frase, poi il maestro parla poco, in una frase lui ha tirato qua, come se si fosse innamorato. Ecco da lì è partito il suo percorso per questa carriera. Vuoi dire una cosa maestro? Maestro, un po' di me. E a tezzo tutto, secondo premio, il secondo premio è per una persona speciale dello staff del Festival della Cultura Cubana, signori, un artista, un artista di quelli silenziosi, di quelli che tu neanche traccorgi, veramente una persona fantastica, meravigliosa, che in questi cinque anni si è donato anima e cuore per la riuscita di questo evento. è un inventore, è una divinità. Ecco, io lo vedo così, nella sua leggerezza espressiva. Signori, un premio! Lui, io non lo so dove sta, io lo dico. A Primo Marchetti! Primo, dove sei? A Primo! Eccolo qua il premio! Stessica della Cultura Cubana, Primo Marchetti, grazie a Primo Marchetti per l'immenso lavoro e lo svolto in questi anni, il diamante raro di passione e gelosidà in questo mondo latino. E volevo dire soltanto che gli strumenti con i quali hanno suonato i signori perfusionisti e li ha costruiti Primo! E l'ultimo premio è un premio che è un altro abbraccio di tutti quanti noi, è un abbraccio di accoglienza, un abbraccio di accoglienza per un grande maestro che è stato qui con noi questa sera, che ci ha deliziato della sua presenza, maestro Ruben Bulnes! Grazie! 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 la prima volta io sono in Italia le grazie per l'educazione Maria della O Maria della O questo non lo ripeto perché se canto io viene a Piovere e io adetto la prima volta io in Italia grazie grazie per il carino grazie mille per il calore grazie mille per l'abbraccio questo è un premio per Cuba un premio per il folklore per voi che hanno defenduto il folklore con tanto grimo un premio per Cuba un premio per Cuba un premio per il folklore grazie grazie per loro grazie 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 A Tupadone, a Tupadone, a Tupadone 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.